Grazie a tutti per avermi dato la possibilità di essere qui con voi, sono un vostro fan, sì, anch'io vi seguo su Youtube e quindi sono veramente anche emozionato di essere questa volta dall'altra parte dello schermo. Bene, la Sietta, per chi non sapesse cos'è la Sietta, è una zona di Pascolo nel Piemonte occidentale, sulle Alpi occidentali, tra la Val di Sur e la Val Chisone. Il 19 luglio 1747 avviene una battaglia in questi luoghi tra l'esercito del re di Sardegna, l'esercito austriaco contro i francesi e gli austro-piemontesi sono vincitori. Uno potrebbe dire, ebbè, piccolo episodio di una guerra dimenticata che si studia quasi di sfuggita sui libri dei licei, ormai neanche più quelli, forse all'università ma anche lì ci sono ormai dei grossi caverat, dei grandi caverat, che è la guerra di successione d'Austria. E quindi storie lontane, dimenticate, noiose, polverose. A noi cosa, perché dobbiamo studiare e perché vale la pena affrontare questo argomento? Vale la pena affrontare questo argomento perché la Sietta è uno degli elementi fondanti, come poi vedremo nel dettaglio, non solo della nostra storia moderna come italiani, ma anche uno degli elementi fondanti di una delle istituzioni più importanti che abbiamo nel nostro paese, anzi forse è stato all'inizio uno degli elementi di collagene decisivi, cioè le forze armate. La Sietta sta all'esercito italiano, e qui voglio fare veramente un pargone molto forte, come la battaglia di Gettysburg sta agli Stati Uniti e come la battaglia di Borodino sta all'esercito russo. Abbiamo un'importanza di questo tipo, che andiamo a vedere adesso nel dettaglio. Mondo della guerra nel 1747. Oggi, come dire, diventa anche un po' complicato, soprattutto chi l'uniforme, la vestita o la veste, riuscire a capire, quando parliamo di battaglioni, di reggimenti, di brigate, esattamente fare un confronto su quello che avviene oggi, anzi su quello che poi avviene nella contemporaneità di oggi. Per essere pratici, io scusate la data messa nel 1744 perché si riferiva anche a un altro scontro, un battaglione di fanteria della guerra di successione d'Austria è oggi paragonabile come importanza tattica, quindi come pedina sul terreno e come potenza di fuoco, a un plotone dell'anno 2022. Se nel 1747 l'equazione mia, perché era un'equazione che utilizzavo alla Scuola d'Applicazione d'Arma di Torino per far capire agli ufficiali frequentatori, quando si parlava di questi eventi del passato, a quale riferimento dovevano fare capo parlando appunto dei giorni della nostra attualità. Un battaglione nel XVIII secolo, nell'Ottocento, un plotone nei giorni nostri. Bene, se nel 1747 sul campo di battaglia, lo vediamo qui nell'immagine, questo doveva essere appunto quello che si vedeva qui in un battaglione di fanteria schierato in linea che avanza verso l'avversario, oggi la stessa potenza di fuoco, lo stesso combat power, ce l'ho solo con questi signori schierati sui loro automezzi. Guerra all'anno 1747. Allora, noi abbiamo una visione della guerra che è filtrata attraverso pochi libri, la guerra del Settecento è poco trattata soprattutto dalla storiografia italiana in maniera efficace, ma soprattutto è filtrata attraverso il cinema. Chi di noi non conosce Barry Lyndon di Stanley Kubrick, con il buon Barry che avanza con le giubbe rosse verso la linea francese, fischiettando al suono dei tamburi e dei pifferi della British Grenaders. Il soldato del Settecento e di questa guerra in particolare è un soldato volontario, a ferma medio-lunga, mediamente giovane che è in grado di passare, se non viene ucciso o ferito, almeno vent'anni di servizio in uniforme, un uomo addestrato, un uomo che ha tra le mani quanto di meglio la tecnologia riusciva a metterli, appunto a produrre, al fine di dargli delle armi particolarmente efficaci per eliminare il suo prossimo. Quindi parliamo di uomini volontari, a ferma lunga, dotati di quanto di meglio la tecnologia del periodo riusciva a dargli, esattamente come è oggi. C'è molta più analogia tra questi soldati del XVIII secolo e un qualsiasi fante che oggi presta servizio in qualsiasi esercito della Nato, che ha abolito naturalmente la leva obbligatoria, che non appunto i soldati della leva obbligatoria che abbiamo conosciuto noi in gioventù, degli anni 80-70. Quel mondo appartiene alla realtà soprattutto della rivoluzione francese, non alla guerra del XVIII secolo. Praticamente abbiamo un nesso diretto tra quello che è il fante contemporaneo e il fante del XVIII secolo. Ecco perché è importante conoscere bene queste guerre e studiarle con attenzione, perché le problematiche che questi signori hanno vissuto tre secoli fa le stiamo rivivendo oggi. E il Presidente Putin sa bene di cosa sto parlando, visto che nonostante abbiano un esercito di leva, una volta depauperata la parte di soldati professionisti, vedete le difficoltà enormi che stanno incontrando con l'esercito di leva direttamente sul campo di battaglia. Nuovamente, il nostro filtro ci impedisce di capire esattamente come funziona queste guerre. Queste guerre non sono assalti alla baionetta e grande risse da bar o da osteria, come siamo abituati a vedere in alcuni film. L'agente di distruzione principale è appunto la potenza di fuoco. La potenza di fuoco che cos'è? È la capacità di scagliare una data massa di metallo contro un nemico al fine di distruggerlo o di abbattere la sua volontà di combattere. Nuovamente torniamo a Berlindo. Ha anche delle parole questa musica. Alcuni ti parlano di Alessandro e altri di Ettore, di Ettore e di Lisandro e di grandi nomi come questi, ma di tutti i più coraggiosi eroi non c'è nessuno che possa paragonarsi ai granatieri inglesi. Questi eroi dell'antichità non videro mai una palla di cannone, né conoscevano la forza della polvere da sparo per abbattere i loro avversari, ma i nostri bravi ragazzi conoscono bene entrambi e scacciano ogni paura, cantate per i granatieri inglesi. Allora vedete, in questa canzoncina, che ancora oggi fa parte del repertorio musicale dell'esercito di sua maestra britannica, si cerca di focalizzare e di esorcizzare il nuovo grande demone della guerra, che è la potenza di fuoco e la polvere da sparo. E le tattiche della fanteria devono adattarsi per far sì che questo nuovo mezzo di distruzione, nuovo rispetto a quello che poteva essere l'epoca moderna precedente, bene, che la potenza di fuoco dei reparti possa essere enfatizzata nel modo migliore possibile. Ed ecco che la fanteria viene schierata su queste linee parallele tra di loro in grado di sviluppare la maggior potenza di fuoco possibile, avendo tra le mani che cosa? Fucili, quindi armi da fuoco con innesco a petra focaia, monocolpo, e quindi avendo un colpo solo, dopodiché bisogna ricaricare, abbiamo queste lunghe file di uomini che contemporaneamente possono scagliare nello spazio centinaia di colpi contemporaneamente. Abbiamo visto, scusate, questi sono quattro plotoni che formano una compagnia, sei compagnie che formano un battaglione. Uno o due battaglioni erano appunto il reggimento, che era l'unità amministrativa base di ogni esercito del periodo. Ogni reggimento poteva essere o di proprietà della corona, e quindi la corona, lo Stato, pagava uniformi di stipendi, di equipaggiamenti, oppure di proprietà privata di qualche contractor, cioè mercenari. Attenzione, noi nell'Ottocento abbiamo iniziato a detestare il mondo del mercenariato, la storiografia poi italiana li vedeva col fumo negli occhi, ma soprattutto per quello che riguarda il Regno di Sardegna, quindi i nostri piemontesi, la migliore truppa che potevano schirare erano appunto questi contractors reclutati nel sud della Germania, o meglio ancora, nella Svizzera, e non a caso saranno poi messi nei key point, quindi nei punti decisivi del campo di battaglia. Le tattiche lineari impediscono veloci manovre sul campo di battaglia, ed ecco che bisogna adattare le proprie formazioni in più agili colonne, e quindi bisognava appunto escogitare il metodo più veloce per passare dalla linea, quindi sviluppare la maggior potenza di fuoco possibile, alla colonna, sviluppare una velocità per manovre off-road. Ma la grande criticità in cosa sta? Nella gestione del fuoco della manovra, quindi la manovra abbiamo visto, bisogna passare dalla linea alla colonna, dopodiché il fuoco. L'idea era quella di scagliare una certa quantità di palle di piombo, quindi parliamo di munizioni, data la larghezza dell'unità, quindi in questo caso del battaglione, per una profondità ben precisa. Di solito, cosa si voleva fare? Si voleva non fare un tiro mirato, ma saturare una zona larga, appunto, quanto il battaglione di fanteria profonda a una distanza di 150 metri, senza fare un tiro mirato, anche perché il fumo delle esplosioni della polvere da sparo avrebbe creato una cortina fumogena, di fatto inammovibile sul campo di battaglia, se non ci fosse stato solo, l'unica condizione per poter riuscire a vedere era o avere un vento impetuoso che spazzava letteralmente il campo di battaglia, oppure spostarsi. Dopodiché, anche problemi tecnici legati alle armi impedivano un tiro mirato oltre i 150 metri. Però, attenzione, non vuol dire che la palla dopo i 150 metri non è in grado di ferire gravemente o uccidere una persona, come, ahimè, molta stereografia militare ci vende. In realtà, armi di questo tipo, armi da fuoco, con caricamento da avancaria, a petra focaia, hanno un potere d'arresto del tutto simile a un fucile a pompa contemporaneo. Il problema è dato appunto dalla qualità del tiro. Siccome questa cosa era perfettamente nota, chi gli uomini li portava sul campo di battaglia, li comandava, non si fa tiro mirato, si fa saturazione d'aria. Per 150 metri, quindi appena l'avversario superava questa linea, venivano messi anche dei segni sul campo in modo tale da avere una percezione ben precisa delle distanze di tiro e dopodiché si scatenava appunto il fuoco di fucileria. Anche gli ordini, questa immagine è tratta da un manuale, da un regolamento dell'anno 1750 del punto dell'esercito sardo. Sono ben precisi, non dicono mai, naturalmente questo in francese perché è riferito a truppa che parla lingua francese, se no avremmo avuto casi, avremmo avuto testi o in tedesco o in italiano. L'ordine non è mai, in questo caso in giù, letteralmente vuol dire in giù, o abbassate l'arma. Se avessero chiesto un tiro mirato, quindi finalizzato a colpire esattamente un bersaglio, l'ordine è visé, cioè proprio un termine diverso in francese. La stessa cosa in tedesco, l'ordine tradotto in tedesco è schlachthan, quindi abbassa l'arma. Non viene mai dato un ordine ben preciso di fare un tiro mirato. E guardate anche la postura di questi fucilieri. Non tengono, non traguardano l'occhio con l'attacca, che in realtà non esiste neanche, comunque non cercano di traguardare con l'occhio la canna dell'arma, ma la tengono bella dritta davanti a loro e semplicemente tirano il grilletto. Perché? Perché la qualità del fuoco non è premiante, è premiante la quantità di fuoco che viene appunto sviluppata sul campo di battaglia. E in giù abbassa l'arma. Ci sono anche le artiglierie. All'assietta i piemontesi non ce le hanno, perché non fanno in tempo a portarla. Al contrario dei francesi, che faranno di tutto per avere artiglieria campale in quota. Ecco, piccola premessa, l'assietta è quasi a 2.500 metri di quota. Eppure le capacità di manovra degli eserciti del periodo prevedevano la possibilità di portare artiglieria campale anche a quelle quote. Con delle precise condizioni, da parte o costruire delle strade, può avere delle artiglierie sommeggiabili e smontabili. L'esercito sardo studia e adotta materiale di artiglieria da montagna sommeggiabile e smontabile. Come è il caso di questo cannone, cannone scomponibile Bertola, ideato per la campagna del 1744, che aveva addirittura un incastro maschio-femmina che permetteva di smontare in due la canna. Sarebbe dovuta arrivare una batteria prevista per la difesa del campo trincerato, ma questa batteria arrivò con una settimana di ritardo. Però è interessante vedere cosa erano in grado di sviluppare. La funzione tattica dell'artiglieria del XVIII secolo è esattamente quella della metallatrice pesante Brauling. Cioè non pensiamo che potessero fare un tiro oltre l'orizzonte o un tiro di fuoco indiretto simile a quello che oggi un sistema missilistico o un sistema di artiglieria era in grado di sviluppare. Fuoco diretto ad accompagnamento appunto della fanteria. Questo di nuovo è il pezzo dell'artiglieria di prima in visione zenitale, dove si vede benissimo il taglio della canna in due e le munizioni che appunto vengono sparate. Di solito la munizione più versatile e più impiegata è la classica palla di cannone, che è una sfera di ghisa di un peso variabile che può andare dalle dimensioni di una palla da tennis sino alle munizioni più pesanti e grandi di solito legate alle operazioni d'assedio. Parliamo di palle di ghisa del peso di 20 kg che viaggiano sui campi di cannone anche a velocità piuttosto notevoli tra i 200, 300, 350 metri al secondo. Noi oggi riteniamo appunto questi tipi di armamenti quasi come dei giocattoli, quasi delle cose da museo superate e molto spesso la palla di cannone la vediamo la vediamo nei cartoni animati con Bugs Bunny e i suoi antagonisti che se la tirano addosso ci giocano. Ecco sarebbe interessante sapere cosa ne pensava il carabiniere Henri Favot che è una palla di cannone si era presa in pieno petto nella giornata della battaglia di Waterloo e avete un'idea dell'impatto devastante che una simile munizione ha contro un essere umano ma anche contro animali, mezzi e affussi di artiglieria. Ecco, una palla di cannone sin quando era completamente ferma sul campo di battaglia non poteva considerarsi una munizione sicura. Ecco, era letale anche solo una di queste palle che rotolava tra l'erba del campo di battaglia e cercare di fermarla con un piede avrebbe portato all'amputazione diretta dell'arto. Comando e controllo ed ecco qui il nostro Barry Lyndon che marcia felice verso le linee francesi e i francesi che appunto si accingono a respingere l'attacco francese. Naturalmente tutto quello che vediamo è assolutamente realistico per varie ragioni. Prima di tutto la difficoltà nel manovrare con queste formazioni sul campo di battaglia. l'essere affiancati l'uno all'altro sì, funziona bene in piazza d'armi dove avete una spianata perfettamente liscia senza ostacoli ma in movimenti off-road basta una zolla un cespuglio un avvallamento il corpo di un compagno caduto che rompe la coesione della formazione fa sì che queste unità che sui trattati dell'epoca vediamo perfettamente allineati queste bellissime figure geometriche in realtà non hanno nulla a che vedere con la realtà del campo di battaglia. Qui vediamo un reggimento ostriaco intanto della guerra dei sette anni che vedete già ha appena iniziato la manovra di avvicinamento alla linea avversaria e già si sta flettendo verso il centro. Se potessimo vedere queste immagini in movimento cosa avremmo veduto? Che piano piano i soldati iniziano a spingere al centro dove ci sono le bandiere e si sarebbe formata una massa incoerente di uomini che come una sorta proprio di gruppo incoerente sta andando verso l'obiettivo che è stato indicato loro dal comando. Viceversa abbiamo anche un'immagine che risale che appunto risale alla guerra di successione d'Austria. Questo è un quadro stupendo conservato a Palazzo Orale di Torino e raffigura la battaglia di Castel Delfino nel 1743. Abbiamo in questo caso un reggimento combinato di granatieri che ha abbandonato le prostituzioni fortificate sul fianco della montagna e sta scendendo lungo un vallone coperto di alberi per innescare un combattimento scusate per ingaggiare un combattimento nei confronti di una colonna francese che sta marciando qui sotto che non è compresa nell'immagine. E cosa succede? Vedete quelle macchie grigiastre? Sono le varie compagnie che si sono ormai completamente disarticolate tra di loro. Sembrano delle masse di umani non troppo organizzate che stanno sparando come possono attraverso la boscaglia. Tutto meno che la manovra geometrica ordinata di quella Garandentel che la storiografia erroneamente ci ha tramandato. Il comando e controllo è il vero incubo dei comandanti dei maggiori dei colonnelli dei colonnelli che comandavano i battaglioni e i reggimenti sui campi di battaglia del XVIII secolo. E dopodiché l'altro grande problema è appunto l'esplosione di centinaia di migliaia di fucili che producono una sorta di vera e propria cortina fumogena che avvolge completamente il campo di battaglia. Non ci si vede. E il non vedersi produce un doppio effetto. Prima di tutto non riesco a vedere i reparti intorno a me dove sono e cosa stanno facendo. Ma peggio ancora non so neanche il nemico dove è andato a finire. Perché grazie a questa massa di fumo l'avversario si può avvicinare si può appunto avvicinare il più possibile alle mie posizioni e ingaggiare un combattimento. E nel caso in cui io debba difendere le posizioni già predisposte sul terreno vuol dire che le possibilità di fare una breccia in questi dispositivi è estremamente credibile ed è un grosso problema per chi deve pianificare la difesa. Questo non è Petralunga ma è l'assietta noi l'andiamo a vedere attraverso quattro momenti che sono la pianificazione la pianificazione francese lo scostamento e la gestione dello scontro e le elezioni apprese. Allora come si gestiva una battaglia? Perché noi diamo per scontato che si arriva sul campo di battaglia avviene lo scontro e dopodiché è solo come dire lo sfruttamento di alcune situazioni che possiamo trovare appunto sul sul campo di battaglia. In realtà questi combattimenti venivano pianificati esistevano degli stati maggiori embrionali che cercavano appunto di pianificare il più possibile che cosa come si sarebbe dovuto svolgere lo scontro e soprattutto la gestione delle risorse che ho e delle risorse cosa sono? Le munizioni il cibo e la possibilità di garantire la presenza di una data quantità di truppe in una zona soprattutto se quella zona la devo presidiare e difendere. Andiamo a vederci come era la situazione del teatro italiano nell'anno 1747 come avveniva la pianificazione e la trasmissione degli ordini e la difesa delle Alpi che poi è l'obiettivo appunto e la situazione che ha portato alla battaglia della Sietta. Allora l'Italia non è molto diversa da quell'Italia che poi siamo abituati a vedere nel risorgimento italiano. Sì è vero il Lombardo-Veneto è ancora diviso in due zone c'è ancora la Repubblica di Venezia Bergamo la vedete nella carta c'è un Ducato di Milano che non è più spagnolo ma è diventato osterco e c'è vedete quel grosso macigno messo là in alto a sinistra che è il Regno di Sardegna che fa di fatto da filtro tra la Francia di Luigi XV e il Ducato di Milano e quindi l'Austria di Maria Teresa. Naturalmente sono degli attori che hanno ognuno dei precisi obiettivi geopolitici e soprattutto geostrategici. Il nostro protagonista che sono i Sardi hanno come obiettivo principale accapararsi che cosa? Il Ducato di Milano e i Ducati di Parma a Modena e Piacenza che poi saranno gli obiettivi che avranno guardate un po' un secolo più tardi nella prima e soprattutto nella seconda guerra di indipendenza. Poi la cosa è un po' scappata di mano e insieme ai Ducati è arrivato che cosa? Tutto il resto d'Italia ma questa appunto è un'altra storia. Nel 1642 in Italia scoppia la guerra di successione d'Austria scoppia nel 1740 le operazioni in Italia avvengono due anni più tardi con questa situazione. Il Regno di Sardegna decide naturalmente per convenienza e dietro alla promessa di allargamenti territoriali di allearsi con gli austriaci e deve affrontare due armate una spagnola attestata in Italia e l'altra franco-spagnola attestata sulle Alpi. Insomma non è una situazione molto piacevole. L'obiettivo dei franco-spagnoli è quello appunto di occupare il Ducato di Milano e già che ci sono difendere il Regno di Napoli che in quel momento è sotto il controllo di una dinastia borbonica che è anche nel contempo uno degli obiettivi dichiarati di Maria Teresa d'Austria. Il tutto la riuscita o meno di questi obiettivi dipende dalla capacità soprattutto francese di superare le Alpi al fine di garantire un imponente supporto materiale e umano agli spagnoli che stanno operando nella penisola italiana. Vedete l'obiettivo è Milano e questi sono i confini del Regno di Sardegna all'anno 1742. I primi due anni prevedono l'invasione della Savoia da parte della Spagna operazione che viene conclusa felicemente per gli spagnoli nel 1753 a Camposanto in Emilia gli spagnoli tentano l'assalto a Milano partendo dalla penura padana ma vengono fermati appunto alla battaglia di Camposanto dell'8 febbraio del 1753 il 13 settembre 1753 che la Francia era belligerante ma non troppo cioè garantiva supporto logistico insomma faceva una guerra proxy all'Austria attraverso la Spagna un po' come gli Stati Uniti e l'Ucraina oggi sì diciamo una cosa simile bene la Francia dichiara guerra al Regno di Sardegna e possono dare via alle operazioni ci provano nell'ottobre 1743 in Valvaraita ma vengono fermati a Castel Delfino ci riprovano l'anno successivo nel 1744 ma vengono nuovamente fermati a Villefranche lungo la riviera Ligue e adesso cosa avranno in mente di fare? naturalmente i francesi ci riprovano in grandissimo stile e nel 1744 riescono a perforare il bastione alpino arrivano nella pianura piemontese ma non riescono a occupare la città di Cuneo che viene difesa nel 1745 e Mallebois dice ma perché io devo prendere il toro per le corna questo bastione alpino lo posso tranquillamente girare da sud una manovra che un certo Napoleone Bonaparte nel 1796 si ricorderà molto bene ed effettivamente questa manovra mette al tappeto tutto il dispositivo difensivo sardo il Piemonte viene a mezzo occupato Milano viene occupata resisterà solo il castello sforzesco verrà poi soccorso degli austriaci ma per fortuna dei sardi il comando supremo viene affidato a un generale tedesco il generale barone Loitrum che dice calma non perdiamo le speranze che la guerra non è appunto ancora persa ed effettivamente l'Austria e Prussia fanno la pace l'Austria può mandare ingenti soccorsi ai piemontesi che stanno ormai cedendo e nel 1746 escono a lanciare una controffensiva che permette loro di occupare tutto il Piemonte orientale e scendere nuovamente lungo la costa già che ci sono occupano anche la città di Genova ma una cattivissima gestione della conquista farà sì che i genovesi anche ben organizzati dalla borghesia locale si scateneranno contro gli occupanti austrossardi e di lì avverrà il noto episodio di Balilla che caccerà appunto anche noi che eravamo lì come forza occupante Genova è conquistata ma Genova si ribella e abbiamo la rivolta di Portoria tanto Balilla piccola nota di colore il comune di Genova incaricò nel 1907 di fare una ricerca per cercare gli eredi di questo erode nazionale oltretutto in un periodo in cui l'Austria si era alleata però cominciava un po' a schicchiolare questa tipice alleanza si scoprì che attraverso testimonianzi cercate tra i parenti ancora sopravvissuti si scoprì che questo ragazzino si esisteva ma era noto come mangiamerda allora il comune di Genova decise va bene ci teniamo il Balilla come ce lo siamo sempre ricordato e evitiamo qualsiasi approfondimento specifico nel 1747 i contendenti sono al tappeto perché comunque queste guerre costano e l'economia soprattutto del Regno di Francia per non parlare di quella piemontese sono paese che hanno acceso dei mutui con interessi altissimi e si rischia la banca rotta però c'è sempre il partito della guerra in ognuna di queste realtà sia da parte piemontese sia da parte naturalmente francese soprattutto i francesi dicono proviamoci ancora una volta se noi riusciamo a ottenere una grande vittoria tattica in Piemonte entro la campagna del 47 visto che tra poco saremo costretti alla pace almeno quando dovremo fare i dividenti di questa pace avremo qualcosa qualche fischi da gettare sul tavolo e potremo ottenere delle concessioni migliori rispetto a quelle che oggi potremmo appunto non ottenere questa è la situazione operativa nella primavera del 1757 la Savoia persa si combatte nel sud scusate nel sud ovest della Liguria ma la situazione è grosso modo in stallo iniziano a pianificare e come si pianifica? il primo passo è quello del consiglio di guerra vedete in questo quadro ce l'ha il generale che sta discutendo con i suoi intorno a una mappa abbastanza raro è discutendo intorno a una mappa ma comunque era anche previsto e il generale decide cosa si deve fare lo vedete qua dà le sue disposizioni al suo stato maggiore e dopodiché lo stato maggiore inizia concretamente a pensare il da farsi una volta stabilito il da farsi viene realizzato viene scritto quello che oggi si chiama operational order cioè gli ordini oggi un ordine di operazioni è più o meno allo spessore di un libro cioè è una cosa molto complessa ed è un bel esercizio di economia gestionale all'epoca questi sono gli ordini di operazioni per la campagna del 1747 una, due, tre facciate che mettono in movimento qualcosa come 40.000 uomini quindi parliamo di un documento estremamente importante però vedete molto asciutto nelle sue e molto scarno nelle sue definizioni e nel dettaglio viene descritto quello che il comandante deve fare ecco qua già c'è una piccola differenza oggi si parla per la gestione delle forze armate di mission command off-tags tactiche cosa vuol dire? che io dico al mio ufficiale cosa voglio da lui e sarà compito dell'ufficiale pensare qual è il modo migliore per assolvere la missione l'alternativa qual è? è dare degli ordini molto dettagliati e qui sono proprio due filosofie di comando i prussiani all'epoca in parte i francesi hanno questa filosofia io ti dico quello che devi fare poi arrangiti tu vedi tu come devi assolvere la missione che io ti sto dando chi ha poche risorse come appunto i sardi quindi i sardi piemontesi e le loro risorse le devono centellinare allora io non mi fido del mio subordinato magari tu mi sprechi troppe munizioni mi sprechi troppi uomini e quindi ti dico esattamente punto per punto quello che tu devi fare sul terreno questo approccio si chiama tattica di missione e questa sarà la filosofia di comando che l'esercito sardo porterà in dote al nuovo reggio esercito italiano e questa filosofia di comando la vedremo in maniera drammatica agire in tutte le guerre di risorgimento nella prima nella seconda guerra mondiale e ahimè la vediamo ancora oggi in essere in molti aspetti della forza armata anche se effettivamente questa idea di mission command e tattica di missione si sta cercando di inculcare sempre di più appunto nel modo di essere dell'esercito italiano dopo di che siamo passati dal livello armata siamo scesi dal livello brigata e gli ordini arrivano al brigadier generale che poi è quello che deve muovere i suoi battaglioni sul campo e gli ordini come vengono dati verbalmente a chi? agli aiutanti di campo i quali trasmettono sempre oralmente l'ordine alle staffette che sono di fatto le ricce trasmittenti le comunicazioni radio tra il comando e l'unità sul campo solo in casi eccezionali ma proprio di gravità estrema veniva scritto veniva dato un ordine scritto cioè se arrivava un ordine scritto dovrebbe dire che era successo qualcosa di veramente epocale e l'ordine era tassativo alla 7 l'ordine scritto alla fine arrivò dopodiché una volta arrivato il comando di reggimento il comandante dà gli ordini ordina naturalmente il silenzio a tutta la truppa presente e dà gli ordini direttamente agli ufficiali e sotto ufficiali naturalmente parlare io già adesso faccio fatica a parlare a voi che siamo in questa stanza siamo comodi tranquilli e voi siete in diligente silenzio quando io devo parlare davanti a una massa di 300 400 persone è un problema cioè non mi sentono i grandi discorsi che siamo abituati a vedere nei film dove i generali arringano migliaia di persone naturalmente non funzionano non sono credibili soprattutto poi sul campo di battaglia dove ho il problema degli spari delle urla di tutta una serie di circostanze che producono rumori e allora come faccio a farmi sentire se devo dare un ordine di avanzata ritirata aprire il fuoco cessare il fuoco con la musica tamburi pifferi e strumenti a fiato a cosa servono non a scandire il passo perché tanto il passo comunque non riuscirò mai a mantenerlo in una situazione off road ma una precisa sequenza musicale mi sta dicendo qual è l'operazione che devo fare avanzo mi ritiro mi fermo mi metto in colonna mi metto in linea apro il fuoco cesso il fuoco naturalmente attraverso delle sequenze che devono essere presentate o comunque il soldato deve essere istruito a riconoscere la musica naturalmente a suonare nel corso del combattimento e appunto capire immediatamente di cosa il comandante vuole da me dopodiché in che lingua si parlano noi siamo abituati devo dire che naturalmente nei film si parlano nella lingua o del doppiaggio o di chi ha prodotto il film chi ha fatto non so se tra voi c'è qualcuno presente ha avuto delle esperienze di revocazione storica di solito si sono abbastanza omogenei questi ordini per esempio si vuole che nell'armata sarda parlo appunto dell'esercito del re di Sardegna quindi parliamo di un'eralta piemontese gli ordini vengano dati tutti in francese in realtà non è vero la truppa non è che viene fa delle scuole di letteratura francese e imparano gli ordini per quanto semplici si parla la truppa nella lingua della truppa oltretutto essendoci delle aree di reclutamento ben precise se il reparto viene reclutato in Piemonte si parlerà loro in un italiano molto dialettizzato ma sicuramente in italiano se la truppa è reclutata in Savoia allora si parlerà in francese se ho a che fare con dei contractors mercenari di lingua tedesca si parla in lingua tedesca e ne ho la prova provata in questo manualetto distribuito agli ufficiali agli ufficiali sardi dove visto che erano dell'area tedesca erano dell'area della svizzera tedesca e parlavano in tedesco si fa vedere loro tra l'altro ufficiali svizzeri di lingua tedesca reclutati con soldo inglese per il re di Sardegna allora vi dico vedete le guerre proxy non sono una novità del ventunesimo secolo sono realtà che la storia conosce bene bastava solo quello però cosa succede? succede che io all'interno sul lato sinistro del libro scusate sul lato destro del volume ho gli ordini in francese che sono la lingua in franca in cui si parla all'interno del regno sul lato destro ho la traduzione in tedesco così io riesco a coordinare riesco ad addestrare i miei uomini secondo il regolamento di formazione che appunto questo esercito prevedeva in modo tale che so coordinare so addestrare e so muovermi sul campo di battaglia esattamente in maniera omogenea come tutto il resto dell'esercito e avviene la pianificazione a livello strategico operativo chi comandava in realtà? il re di Sardegna non era un grande un grande comandante sì adesso si cerca di farlo passare come un comandante capace ma Carlo Emanuele III ogni volta che è sceso sul campo di battaglia dei piccoli disastri da creati la veramente strategica è quel signore là a sinistra che era il ministro della guerra Giovanni Battista Bogino il quale decide che per queste operazioni sulle Alpi ha bisogno di un uomo nuovo un comandante che è il nostro Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio era il governatore della piazzaforte di Safona occupata ai genovesi e ha bisogno di un comandante che sia sufficientemente capace estremamente tenace nel difendere le posizioni che gli verranno assegnate e molto metodico pignolo rigido anche mentalmente e sappiamo che se lo mettiamo in quella posizione sicuramente non si muoverà so già che alcuni diranno il famoso Bugianen ecco diciamo subito una cosa il Bugianen è un termine piemontese tradotto alla lettera è colui che non si muove oggi si vuole far passare questo termine come eredità della battaglia della Sietta perché i reparti piemontesi con il loro comandante in testa lì si sono messi e di lì non si sono spostati in realtà non è vero nel senso che il termine Bugianen è un epiteto negativo perché sicuramente possiamo dare tante possiamo elencare tante caratteristiche positive dei piemontesi ma sicuramente non ecco l'elasticità mentale la capacità di innovativa sicuramente nel diciottesimo secolo questa cosa era ben presente solo recentemente tra la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta la pubblicistica piemontese ha detto ah magari Bugianen è legato la storia della sietta in realtà questa cosa non è vera è una creazione ex post legato a un evento che ha avuto tutta un'altra vicenda un'altra storia ecco il Bugianen nasce come un epiteto negativo e non positivo in questo caso possiamo usarlo effettivamente come epiteto negativo nei confronti del buon che era sicuramente un Bugianen che era perfetto per quel tipo di missione e quindi Bogino gli dice vecchio tu devi fare esattamente così uno esegui la lettera degli ordini che io ti do due risparmia le forze allora la tua missione non è quella di cercare il nemico e ingaggiarlo ma controlla il nemico poi se puoi evita di farti massacrare due combattere solo in difesa ecco visto che l'esercito piemontese ha subito perdite drammatiche nel corso di questa guerra io voglio che tu ti scegli una posizione ben precisa la fortifichi modello fortapache e di lì non esci se proprio il nemico ti vuole venire a cercare e attaccarti allora ti difendi però evita di evita di come dire provocarlo terzo non prendi su al quarto evita di prendere iniziative pericolose perché se prendi iniziative pericolose e questo ti attacca e tu sei in inferiorità numerica insomma la cosa non va tanto bene e lui è in inferiorità numerica il main effort dell'armata Sard in questo momento non è sulle Alpi ma è lungo la costa Ligure lungo la costa Ligure c'è Savona c'è Genova insomma ci sono dei bocconi estremamente prelibati sulle Alpi cosa possono avere? Susa? sì dalla Val di Susa si può arrivare a Torino ma non dimentichiamo che quelle valli sono potentemente fortificate ci sono tre forti che chiudono le valli i due principali sono il forte della Brunetta di Susa il forte di Fenestrelle e il forte di Exil che è una specie di avamposto poi lo vedremo nel dettaglio questa è la task e la task organization dell'armata dell'armata del Bricherasio divisa in due brigate principali una piemontese con dieci battaglioni al comando del brigadier generale Martinengo suddito della Repubblica di Venezia imprestato al re di Sardegna dopodiché c'è una piccola brigata austriaca del conte Colloredo dopodiché vengono mobilitate le milizie territoriali quella valdese quella dell'alta val di Susa e quella di Pragelato con la piazzaforte di Fenestrelle che funziona da base logistica che deve poter garantire il supporto delle munizioni del cibo del vetrovagliamento a questa massa di uomini che è complessivamente di 7.250 uomini abbiamo i ruoli di questi reparti nel senso che all'archivio di Stato di Torino ci sono i libri con l'elenco preciso nome e cognome di chi era presente in quelle zone e si pianifica la difesa a livello operativo quindi ci sono dei passi ovviamente questi devono essere difesi che garantiscono l'ingresso dell'artiglieria il Piccolo San Bernardo il Moncenisio il Monginevo il Colle dell'Agnello e il Colle della Maddalena e il Colle di Tenda che scende appunto su Limone Piemonte questi sono i passi che garantiscono il transito dell'artiglieria pesante e devono essere assolutamente chiusi in che modo? con delle fortificazioni permanenti Exil la Brunetta di Susa e Fenestrelle Torino e la sua piazza forte Fulcro Centrale della Difesa dello Stato Cuneo e il Forte di De Monte in Valle Stura di De Monte due brigate dedicate al controllo delle valli più una forza di un reggimento a chiudere la Valle d'Aosta la Valle d'Aosta sembra importante ma in realtà è una valle molto profonda e quindi ci sono molte occasioni per poter chiudere appunto qualsiasi penetrazione lungo la Valle d'Aosta la Tuil Piertaglie che è prima di che è prima di Aosta e poi lo stranoto Forte di Bar che chiude definitivamente la valle verso gli sbocchi della pianura il quartiere generale a Torino e il grosso delle forze attestate a sud perché appunto la via di penetrazione principale come avrei insegnato nel 1745 Mallebois è data dove? lungo la costa Ligure e ricordiamoci una cosa Napoleone questa cosa se la ricorderà molto bene 40 anni più tardi 6 passi alpini in grado di sopportare i transiti su ruota 5 passi sono chiusi e controllati da fortificazioni permanenti e i punti deboli di tutto lo schieramento nel 1797 sono la valle Stura di De Monte la valle Varaita e la valle di Susa ci si aspetta un'offensiva in uno di questi tre punti e in particolare quella che sembra più sguarnita perché le truppe sono state distribuite un po' ovunque è la valle di Susa allora la valle di Susa che ormai è ormai stranota soprattutto per i tafferuli di Notav e più che altro anche per le zone scistiche possiamo definirla come dire segnata da due grandi solchi vallivi la valle Chisone a sud che è la valle di Fenestrelle lo vedete segnato là più o meno a metà valle ed è il Sestre più sotto la valle di Susa a nord con Susa e più avanti c'è Exil con il suo forte i due passi principali sono il Monginevo e il Moncenisio che è posizionato più a nord quello che si aspettavano i pianificatori piemontesi era un attacco in forte dal Monginevo oppure lungo il solco della Val Chisone o viceversa un altro attacco che si pensava vedete la freccia con la doppia punta indica l'attacco principale gli altri due sono attacchi sussidiari l'altro attacco appunto dal Moncenisio queste sono le fortificazioni permanenti in grado di chiudere le valli Fenestrelle con la sua catena di forti Exil e il forte della Bonetta di Susa che oggi è distrutto in particolare chi dava pochissime garanzie di tenuta era il forte di Exil ed ecco che bisogna salvaguardare il forte di Exil che potrebbe essere uno di quei dividendi della pace occupando in quota l'altipiano della Sietta che controlla perfettamente la valle dove è sistemato il forte di Exil in versione tridimensionale vedete l'attacco principale francese lungo il Moncinevo verso Exil l'attacco secondario verso la Val Chisone in direzione di Fenestrelle l'attacco secondario lungo il solco del Moncenisio l'Assietta con la Brigata al comando del generale Bricherasio che vedete che perfettamente controlla lo Spartiacque in grado di dominare gli assi di penetrazione dei due assi di offensiva francese e come la difendo questo antipiano ci metto delle truppe e basta no siamo in inferiorità numerica e devo avere delle fortificazioni campali e viene realizzato un enorme campo trincerato cioè un campo intorno al quale vengono realizzate delle fortificazioni campali ma l'esperienza ha insegnato i sardi che bisogna stare molto attenti dopo che mi fortifico devo evitare che queste posizioni possano essere aggirate e quindi il campo sebbene molto schiacciato dal momento che mi trovo su una cresta montuosa può essere difeso a 360 gradi quindi il nemico può girarmi tutto intorno ma io sono in grado di intercettare di difendere il perimetro del campo in ogni sua direzione con dei prolungamenti che mi permettono di controllare le posizioni tattiche più vantaggiose nel dettaglio questo è il campo trincerato della Sietta con punti decisivi sono questo che si chiama vetta del Grand Seren che è la quota più alta che controlla tutto l'altipiano e consente a chi difende il campo la zona delle tende è questa ma altre zone di accampamento lungo tutto questo passaggio consente di sganciarsi eventualmente e di andare verso Torino o verso Fenestrelle che è appunto la base logistica delle truppe attestate a difesa di questo accampamento la linea di massima difesa ben detto che questo è il punto principale vetta del Grand Seren la linea di difesa principale è questa sorta di rettangolo che è appunto la cresta dell'assietta propriamente detta assietta in francese vuol dire piatto e l'assietta è un passo che mette in comunicazione la Val Chisone con la Val di Sousa ci sono dei cocuzzoli che dominano questo colle il principale di questi è questa punta segnata con la lettera A nota come testa dell'assietta siccome dal punto di vista della difesa era impensabile lasciare il dominio di quota di questa posizione al nemico ecco che viene realizzato una sorta di corridoio fortificato in modo tale da controllare anche questa emergenza rocciosa su questa posizione avanzata si deciderà di schiare chi? le truppe scelte a disposizione del Bricherasio la compagnia guardie del primo battaglione del reggimento guardie come erano fatte le trincee? ecco non sono le trincee della prima guerra mondiale mentre nella prima guerra mondiale abbiamo le trincee ma ce l'avevano già all'epoca in altre operazioni soprattutto quelle ossidionali in questo caso abbiamo dei trinceramenti cioè scavo e il materiale di risulto allo accumulo in esterno in elevato in modo tale da creare una protezione passiva che micropra completamente il tiratore nel contempo crea anche un ostacolo passivo in elevato in modo tale che chi attacca deve anche scalarlo questo muro oppure deve avere dell'artiglieria per sfondarlo sul campo questa era grosso modo l'altezza e naturalmente in pietra siamo in montagna e il materiale di risultato principale appunto della pietra altrimenti in pianura l'avrebbero realizzati in terra abbattuta bene più o meno l'altezza un metro cinquanta un metro ottanta a seconda dei punti era la caratteristica principale di questo campo nei punti più esposti al Grand Seren piuttosto che non alla butta dei granatieri alla testa dell'assietta le fortificazioni erano decisamente più imponenti anche due due metri e mezzo e vedete l'altezza dei soldati che tipo di difficoltà appunto avrebbero incontrato davanti a un ostacolo passivo di quel tipo dopodiché come lo difendo ecco questo mi sono divertito a utilizzare il quadro della battaglia di Castel Delfino e utilizzare gli schemi tattici contemporanei la linea di difesa quindi parlo di fortificazioni campali nella parte alta questa zona più chiara con le lettere EA Engagement Area o per chi legge ha letto il volto della battaglia di John Keegan parliamo proprio di Killzone cioè la zona degli ammazzamenti lì dentro dove devo ingaggiare il nemico e distruggerlo bene le mie truppe in questo caso parliamo di due battaglioni sono schierati all'interno del campo c'è un battaglione di rinforzo in caso di necessità è una riserva tattica il nemico entra nella engagement area le frecce alternate indicano un'attività di disruption cioè di disarticolamento dell'attacco e infine un'attività di blocking cioè blocco completamente il suo attacco questo è come viene pianificata la difesa di un campo trincerato di questo tipo sempre mappa tattica i capisaldi con i battaglioni fortificazioni campali le penetrazioni del nemico e l'engagement area all'interno della quale il nemico deve essere distrutto fotografate molto bene questa immagine perché vi do già i titoli d'inizio questa è l'Italian Way of War pianificazione dell'armata francese e poi naturalmente c'è anche un nemico che ha un piano i francesi devono pianificare un attacco dalle Alpi pianificare un attacco in Val di Susa e hanno una missione specifica per quella che loro chiamano armé d'Italie cosa vogliono loro? Milano Genova è sotto assedio in quel momento e devono liberare la città dall'assedio e quindi due armate una francese e una spagnola hanno il compito operativo di spezzare l'assedio ci sono delle forze congiunte che difendono Genova ci sono forze spagnole in Savoia e c'è la nuova armé d'Italie che viene appunto preparata tra la città di Grenoble anzi meglio ancora tra Gap e Sisteron appunto nel delfinato francese un uomo per José Brousset diventa il capo di stato maggiore dell'armé de Provence e a lui il comandante in capo delle forze francesi del settore il maresciallo di Belil dice vecchio tu mi devi preparare un piano per ottenere qualcosa sulle Alpi Brousset la cui famiglia originale dava il chisone dice io ho un'idea se nel 1745 con pochi uomini siamo quasi riusciti a conquistare il forte di Exil piccolo episodio all'atria di quella campagna nel 1747 se noi li dedichiamo oltre 20.000 uomini noi il forte sicuramente lo occupiamo in che modo? puntando al colle della Sietta aggirando da nord il forte isolandolo dal resto delle forze piemontesi e lì investendolo con l'artiglieria d'assedio capo questo piano è sicuramente vincente però condizio sine qua non il colle della Sietta deve essere messo in sicurezza al fine di isolare completamente il forte di Exil e a questo punto mi direte ma sto proprio il forte di Exil ma come è messo? allora il forte di Exil che vediamo oggi è una ricostruzione della prima metà dell'Ottocento del forte che poi è stato distrutto in seguito al trattato di pace di Parigi del 1796 quella è la direzione degli attacchi francesi dal Monginevo il forte di Exil è una cosa tremenda è una trappola di proiettili il problema è che è anche un simbolo come fortezza valeva all'epoca valeva veramente poco soprattutto chi la doveva difendere se ne rendeva conto che era sacrificato però Exil era proprio uno dei simboli fortificati del delfinato francese che era stato occupato vent'anni prima è un simbolo militarmente la posizione è poco tenibile però se io devo fare un trattato di pace e il forte di Exil è stato occupato dal nemico magari non è neanche detto che mi venga restituito ed ecco per chi i sardi decidono di mantenere quella posizione e di difendere questa fortezza all'epoca era un castello medioevale rinforzato con opere moderne e insomma una volta occupata come potete vedere tutte le alture circostanti era un gioco da ragazzi demolirlo con l'artiglieria come un tiro ficcante cioè dall'alto verso il basso l'uomo incaricato di risolvere la situazione è il fratello del comandante in capo sì questi eserciti di antico regime hanno il vantaggio che ecco le parantele contano lui Charlamand Fouquet che c'è cavalier du Belil cavaliere di Belil è uno che deve la carriera al fratello e deve la carriera alle capacità relazionali di corte bello brillante capace spavaldo gli danno i gradi di logotenente generale cioè praticamente l'apice del comando dei francesi e gli danno un comando di un'armata quindi gli danno un comando indipendente che non era una cosa da poco per l'epoca comandante in capo dell'arma d'Italia e gli danno un sacco di uomini 25.000 uomini divisi su tre divisioni che vengono chiamate colonne con varie brigate e addirittura pezzi addirittura due batterie quello in alto è un errore mio non sono pezzi da montagna ma sono pezzi da artigliere campale tra l'altro direttamente comandati dal comandante in capo una colonna di staccati in arrivo dalla Savoia e vedete tre colonne di manovra destinate a investire l'assietta e il forte d'exil come si muovono questi? mentre i piemontesi dovendo giocare quasi sempre in difesa hanno sviluppato ottime tattiche di difesa quindi trinceramento truppe schierate di trinceramenti e capacità di sviluppare potenza di fuoco i francesi considerano l'arma per eccellenza del loro esercito la baionetta e quindi sviluppano sempre attacchi in colonna sono velocissimi nella manovra ma sottostimano la potenza di fuoco e per loro l'elemento base vincente di qualsiasi combattimento è appunto l'attacco alla Follard dal nome del teorico militare che l'aveva ideato cioè masse di battaglioni che senza aprire il fuoco devono approcciare il nemico e sfondare le sue difese con un urto all'arma bianca ma noi all'inizio ci siamo detti che il nuovo demone della guerra è la potenza di fuoco già prevedo grossi problemi e vediamo gli scostamenti tra quello che pianifico e quello che poi il campo di battaglia ci insegna o ci dimostra anche i russi hanno fatto delle pianificazioni il campo di battaglia di questi giorni gli hanno dato come dire una risposta completamente diversa bene la prima cosa che faccio faccio deception cioè inganno i francesi iniziano a restaurare tutte le strade che portano verso sud verso la Liguria e verso il colle di Tenda e quindi verso Cuneo e quindi il 24 giugno 1747 i piemontesi abboccano al Lamo decidono di sospendere tutti i lavori di fortificazione sulle Alpi in Val di Susa attenzione i francesi stanno spostando verso sud vedrai che magari l'attacco è verso De Monte verso Cuneo il 24 giugno allo stesso giorno i franco spagnoli avanzano lungo la costa Ligure quindi abbiamo già due segnali restavano le strade e si muovono verso sud basta smettiamo di fortificare la Sietta però Bogino quello che tutta l'operazione l'aveva pensata dal punto di vista della difesa perontese non è molto convinto soprattutto perché questi ordini erano direttamente dal re Carlo Emanuele III che è un uomo molto emotivo e dice vostra maestà non sospendiamoli subito questi lavori lasciamo lasciamoli lavorare ancora un po' male che vada saranno buoni per la prossima campagna e l'ordine viene revocato e l'intelligence s'abaudo brancola nel buio ecco questo è già un elemento di scostamento rispetto a quello che abbiamo come storia di questa battaglia dove i piemontesi sono informati di tutto quello che avviene nel campo avversario in realtà non è vero i francesi sono molto abili nel confondere le acque e il 30 giugno nuovamente il comando sardo viene avvisato che l'attacco sarà nel Piemonte meridionale e non in Val di Susa cosa vuol dire questo? che tutte le riserve strategiche operative vengono spostate a sud e non saranno disponibili per la difesa delle Alpi Bricherasio dovrà difendersi con quello che ha il primo luglio come vi dicevo le truppe vengono effettivamente messe in movimento in direzione della Liguria l'11 luglio il cavaliere di Belil riceve l'ordine di attaccare il Piemonte e conquistare il forte di Exil e viene stilato l'ordine scusate il primo luglio viene stilato l'ordine di operazioni per la conquista del Piemonte e pochi giorni dopo parte appunto per l'offensiva in Piemonte e danno il via all'operazione conquista del forte di Exil però cominciano a esserci dei primi problemi la nuvoletta con l'acqua vi segnala che piove quindi tutte le Alpi occidentali vengono investite da una perturbazione di origine mediterranea che da sud si sposta verso da sud ovest scusate da sud est si sta spostando verso nord ovest che investe completamente le Alpi attenzione siamo in un periodo di piccola gracciazione cosa vuol dire? che i tempi una perturbazione nell'estate del 1647 vuol dire pioggia veramente copiosa e sopra una certa quota e parlo dei 2000 metri di quota abbiamo neve quindi vuol dire che marciare e manovrare in un settore come l'Alpi occidentali dove abbiamo delle quote in quel punto superiore anche ai 3500 3800 metri di quota vuol dire che abbiamo delle no go area quindi aree dove non mi posso spostare e sarà estremamente complicato mettere in movimento degli uomini ciò nonostante il 15 dal 15 al 16 luglio sotto veramente torrenti d'acqua e di neve i francesi superano la linea di confine e il 16 luglio riescono a raggiungere Ulx in Piemonte il 17 si accampano nuovamente a Ulx e assistiamo proprio in quei giorni al primo fallimento operativo la manovra è concepita molto bene riescono a far convergere in contemporanea tre battaglioni di infanteria notate bene due dalla Savoia e due dalla Francia su Bardonecchia da Bardonecchia questo era il settore nord del piano francese risalgono queste valli si chiamano Val Fredda devono raggiungere il passo del Galambra 3100 metri di quota questo tanto per dirvi anche all'epoca fare la guerra bianca non è una peculiarità solo della della prima guerra mondiale ma già nel diciottesimo secolo e vi assicuro che anche nei secoli precedenti in queste zone si combatteva quelle quote a oltre 3.000 metri di quota devono occupare il passo e discendere verso il forte d'exil al fine di isolarlo il problema è che trovano neve trovano talmente tanta neve a livello del petto dei soldati che lottano per due giorni consecutivi per riuscire ad aprirsi una pista alla fine la sera del 18 luglio decidono che non sono più in grado di avanzare e ridiscendono su Salbertan dove appunto attenderanno ordini successivi dal loro comandante e i francesi appunto ritornano sul fondo valle esausti non riescono a marciare oltre le altre colonne invece si danno da fare sempre nel mezzo a condimete o pessime pioggia neve nebbia il 18 luglio riescono a convergere nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1747 riescono finalmente a convergere tra le ore 19 del 18 e le ore 8 del 19 nei pressi del colle dell'assietta sono tre colonne una al comando del marchese Dumai una direttamente comandata dal comandante in capo Belil e la terza da un veterano delle campagne d'Italia il conte del Vilmuro finalmente arrivano al colle dell'assietta la battaglia era stata pianificata per il 18 ma ritardi appunto tenete conto che parliamo sempre di come quote 2400 2500 metri di quota ritardi nella manovra fanno sì che la battaglia viene pianificata per il 19 e nel frattempo il comando sardo deve anch'esso pianificare la propria difesa le core quindi enemy course of action quindi è il piano che i sardi hanno per la difesa del loro campo capiscono che il punto decisivo è questo e quindi le loro migliori unità e il comando viene stabilito non alla testa dell'assietta non al colle dell'assietta ma direttamente sul colle del Gran Seren dove il bricherasio metterà al suo posto comando di cosa hanno paura i sardi che l'attacco principale avvenga direttamente dalla Val Chisone e contro la vetta del Gran Seren ed ecco che si mettono lì mettono lì le loro migliori truppe naturalmente temono un attacco contro la testa dell'assietta mettono una delle loro migliori unità il primo battaglione del reggimento guardie e la compagnia Granatieri naturalmente l'attacco direttamente contro il colle dell'assietta ma peggio ancora temono un aggiramento a nord di tutto il dispositivo in modo tale a tagliarli fuori ed ecco che mettono là un altro battaglione in questo caso di contract contro svizzeri che devono appunto chiudere qualsiasi provenienza alle ore alle ore due del mattino del 19 i francesi vengono avvistati le truppe vengono svegliate dagli accampamenti e disposti nelle loro posizioni non ci sono ancora tutti i reparti disponibili perché alcuni sono ancora in avvicinamento al campo di battaglia però già possiamo vedere una cosa che tutte le unità d'elite granatieri del reggimento Meyer granatieri del reggimento di Sardegna del reggimento provinciale Casale e compagnia scelta dei reggimenti svizzeri e austriaci vengono messi a schermo davanti a quella che si teme essere uno degli attacchi principali francesi cioè il settore occidentale del colle della Sietta sul campo di battaglia la mattina alle ore 9.45 questo è quello che i francesi vedono finalmente dopo giornate di pioggia nebbia neve riescono ad avvistare il nemico e sentono di avercelo in pugno vedete il Grand Seren è quella vetta che domina completamente la zona la Sietta è una quota più bassa effettivamente se non lo conto che se riescono a mettere le mani su quella quota la battaglia è loro e questo è il loro piano conquistare il Grand Seren conquistare la testa della Sietta e la linea di massima difesa appunto del campo e contemporaneamente convergere sul passo stesso c'è anche l'arma decisiva l'artiglieria i pezzi campali da 4 libere che vengono portati tenendo a conto che questi sono oggetti che pesano oltre una tonnellata dal fondo valle vengono trascinati sino sulle creste montane solo che lottano tutto il giorno il Cavalier di Belil è con l'orologio in mano che dice ma quando ci impetano questi cannoni quanto ci mettono le aspetta alle 9 alle 10 mezzogiorno arrivano alle 4 del pomeriggio gli comunicano vostra grazia i cannoni non possono arrivare perché non abbiamo abbastanza genieri per aprire i sentieri e portarli sul campo di battaglia il problema è che questi cannoni sono gli unici mezzi in grado di sfondare le difese del campo pincerato però lui ha perso la pazienza e in più il suo intelligence gli sta dicendo guarda che stanno arrivando i rinforzi piemontesi non è vero i francesi hanno calcolato male i tempi i rinforzi piemontesi arriveranno ma una settimana dopo lui pensa che siano ormai a ridosso del campo e quindi prende la decisione ora o mai più il problema è che l'ora o mai più vuol dire fare un attacco con piccoli pezzi di artiglieria da montagna su un fronte enorme dopo aver deciso che l'attacco principale dovrà essere appunto contro il Gran Sareno e l'attacco finalmente parte alle ore 16.30 nel mattino perché è così tardi perché hanno aspettato fino all'ultimo l'arrivo dell'artiglieria campale che poi alla fine non è arrivato queste sono le marce d'approccio delle varie colonne l'avvicinamento della colonna Vilmour che impiegherà ore parliamo di qualcosa come quasi 10.000 uomini che devono snodarsi lungo tutto i percorsi di montagna e raggiungere appunto le creste per poter poi sviluppare l'attacco principale si avvicinano appunto alla linea di partenza dell'attacco e l'attacco alle ore 16.30 al pomeriggio ha inizio da punto di vista numerico non c'è storia nel senso che parliamo di attacchi di oltre 4.500 5.000 uomini contro le compagnie le compagnie ganatieri ne hanno complessivamente 65 il problema è che difendono una vera propria torre fortificata in quel punto le fortificazioni campali sono alte quasi 4 metri senza artiglieria non si può assolutamente pensare di poter demolire quelle mura e il risultato qual è che l'attacco alla Follard come prevedevano i francesi prevedeva che davanti alle prime linee ci fosse tutto lo staff di comando delle colonne quindi il generale comandante con lo stato maggiore e le bandiere marcia davanti perché deve dare una precisa direzione dell'attacco la prima scarica di fucile aria piemontese stermina completamente i comandanti francesi che sono messi alla testa delle colonne quindi dal punto di vista del comando e controllo la battaglia salta immediatamente per i francesi dopodiché la massa di uomini è tale che comunque riesce a impattare contro le difese del campo ma scusate impattare contro le difese del campo cosa vuol dire che inizia ad avvenire un attrito continuo di ore dove per almeno tre ore e mezza i francesi si fanno macellare dal fuoco di fucileria dei difensori questo è quello che avviene prevedendo un attacco alla baionetta io con la mia baionetta arrivo sotto questo muro e dopodiché cosa posso fare? cercare di togliere le pietre con le mani cercare di arrampicarmi mentre da sopra degli uomini armati di fucile quindi di armi da fuoco continuamente mi iniziano a mitragliarmi per ore e ore di combattimento la stessa cosa avviene sugli altri settori del campo di battaglia De Maide si avvicina sull'altro settore del campo quello tra l'altro meglio difeso e guardate un po' ci sono due killing zone che vengono addirittura a sovrapporsi e De Maide ha avuto l'ordine di infilarsi esattamente in quel punto cosa avviene? che essendo colpito sul fianco e di fronte riesce a far indietreggiare alcuni reparti sardi che sono disposti esternamente al campo ma il primo attacco si infrange miseramente contro le difese austro-piemontesi vedete direttamente sul campo di battaglia che razza di situazione è parliamo di una rampa con un gradiente di salita di oltre il 10% fanteria scelta ingegneri che con picconi e altri strumenti devono demolire le fortificazioni del campo e altra truppa scelta che tuttavia deve superare completamente l'engagement area del campo la speranza di successo è assolutamente minima la potenza di fuoco dei reparti del XVIII secolo era tale che un attacco di questo tipo soprattutto approcciandola con la tattica la foulard per vista dei francesi era assolutamente destinata all'insuccesso e non a caso uno dopo l'altro gli attacchi di Mailly vedete proprio questo direttamente preso dalla prima linea Austro-Sarda si vede la freccia che indica la direzione dell'attacco i Redan cioè questi rientri delle fortificazioni campali che consentono anche a distanza più ravvicinata di incrociare i fuochi quindi alla fine mi infilo letteralmente in una zona di ammazzamento tale che non c'è assolutamente possibilità per chi attacca di riuscire a superare queste difese a meno che di avere l'artiglia però sappiamo benissimo che questa artiglieria non è arrivata sul campo di battaglia e il quadro che Carlo Emanuele III re di Satinia si fa realizzare e esporre al Palazzo Reale ancora oggi lo vedete a Torino vi fotografa benissimo quella che era la situazione tattica delle colonne francese delle colonne francesi uomini che ammassati l'uno sull'altro cercano di risalire il fianco della montagna e vengono letteralmente macellati dalle continue salve regolari dei difensori difensori che sparano 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 e alla fine cosa succede? che inizia a svilupparsi quella cortina fumogena di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra chiacchierata i francesi riescono a avvicinarsi il più possibile addirittura quasi a toccare con le mani il trinceramento ma alla 1720 nuovamente la potenza di fuoco dei difensori è tale che anche la forza combinata di quasi nove battaglioni di franteria contro solo due non è sufficiente ad avere ragione appunto dei difensori e i francesi vengono respinti con gravissime perdite Belil incomincia a perdere non solo la sua capacità di giudizio di comandante avendo deciso un attacco assolutamente non necessario in quel momento avrebbe tutto aspettato il giorno dopo gli sarebbe arrivata la fileria decide di tentare il tutto per tutto contro la testa dell'assietta anche perché l'attacco principale deve ancora svilupparsi da parte francese quello contro la vetta del Grand Seren Belil prende tre battaglioni di franteria che sono ancora sopravvissuti dall'attacco precedente e decide di andare ad attaccare personalmente la posizione avversaria dentro la ridotta questo è quello che più o meno avremmo visto quindi continuamente si caricano i fucili e si spara addirittura i fucili iniziano a spaccarsi i piemontesi hanno delle perdite e non solo ma la munizione comincia a finire il consumo dei colpi è talmente elevato che non era stato pianificato in maniera così elevata e si inizia a usare cosa? le pietre le pietre sono proprio accumulate in maniera ben precisa sui fianchi delle fortificazioni per far cosa? per prendere e lanciarla in testa agli assalitori era previsto nella pianificazione dei campi ancora nel XVIII secolo e fuori avremmo visto questo avremmo visto questo e a un certo punto Belil decide disperato di dare l'esempio si fa seguire dal suo aiutante di campo il cavaliere Dajincourt di cui abbiamo anche il ritratto il cavaliere Dajincourt prende una bagniera segue il suo comandante e in quel momento si prende la prima fucilata al braccio se noi parliamo di una fucilata prendiamo di una palla di piombo sparata a pochi metri di distanza calibro 16,7 17 mm è insomma un bel colpo tale da quasi staccargli il braccio destro e gravemente ferito va ad appoggiarsi al muro della fortificazione il nemico è sopra di me non mi può vedere perché siamo defilati al tiro e lì cerca di coordinare come può con una ferita di quel tipo le operazioni d'attacco il suo aiutante di campo è vicino a lui con la bandiera e cerca di dare l'esempio ai propri uomini quindi vedete già uno scostamento sulla narrazione non è lui che tiene la bandiera ma il suo aiutante di campo abbiamo la lettera di questo signore che ci descrive passo per passo quello che avviene dopodiché vedendo che la truppa non riesce a superare questo sbaramento il muro e il fuoco dei difensori decide il tutto per tutto l'aiutante di campo inizia a incitare venite avanti il cavaliere di Belil si sposta nel punto più esposto di tutta la difesa nel punto in cui il muro ha iniziato a cedere dopo ore e ore di combattimenti di gente che levava le pietre e a quel punto si prende la seconda fucilata in pieno volto che lo uccide la leggenda perché qui di leggenda parla vuole che i due che abbiano sparato il colpo siano tali Adami e Dell'Ena che si erano soldati del reggimento guardie ma non erano granatieri perché lo sappiamo Torino è un archivio ha un archivio di stato veramente ricco e addirittura di questi reggimenti abbiamo i ruoli cosa sono i ruoli non sono i fogli matricolari come abbiamo oggi dei soldati ma erano i libri paga di tutti questi signori che hanno combattuto abbiamo il nome il cognome il padre l'altezza il colore dei capelli e degli occhi e il nome di battaglia e sappiamo facevano la bellezza di 12 riviste l'anno una per ogni mese sappiamo esattamente quest'uomo dov'era e cosa ha fatto e se è stato ferito in battaglia o ucciso perché è importante saperlo perché se non è presente nei ruoli per qualsiasi accidente non viene pagato quindi sei morto ti tira una riga sopra morto il giorno tale sappiamo che Adam e Dell'Ena erano fucilieri del primo battaglione di due compagnie ben precise che in quel momento non erano schierate alla testa dell'assietta erano stavano facendo altre cose nel 1845 due studiosi anzi definiamogli non erano nome due eruditi piemontesi tale Sciullo e Gabriel Ferrero scrivono un libro dedicato alla brigata Granatieri e alla brigata Stavoia e decidono che Adam e Dell'Ena sono i due uccisori di Belil perché lo dicono? perché Adam e Dell'Ena soprattutto Adami aveva lasciato i figli in forza del reggimento ed era stato uno degli ultimi sopravvissuti della battaglia tenete conto che muore nel 1793 a Torino e gli ultimi superstiti della battaglia sono francesi che moriranno nel 1804 agli invalidi a Parigi quindi parliamo di gente che era veramente visti come una sorta di monumenti viventi e possiamo immaginare in questi 40 anni siccome gli episodi io non le sto raccontando ma ce ne sono innumerevoli di ufficiali francesi che cercano di dare l'assalto alle fortificazioni come sono state tramandate quindi e siccome queste storie venivano tramandate oralmente possiamo facilmente capire come episodi siano stati nel corso degli anni elaborati in un certo modo tramandati all'interno del reggimento e alla fine trasformati in cosa nel probabilmente un ufficiale che sarà stato ucciso da questi due diventa che chi diventa chi il comandante in capo che viene ucciso da Dami dell'era pur sapendo che in quel preciso momento sul campo di battaglia nell'uno e nell'altro erano presenti quindi in questo momento possiamo dire che storicamente i nomi degli uccisori di Belil non sono noti possiamo tranquillamente dire che sicuramente sono stati due soldati della prima compagnia del primo reggimento scusate del primo battaglione del reggimento guardie che comunque rappresentano per quello riguardo la storia militare italiana una delle azioni difensive meglio riuscite della nostra storia militare nazionale Belil muore lo sostituisce il marchese di Belil di De Mailly come comandante in capo e finalmente arriva l'attacco tanto atteso contro il Gran Serena del 1835 gli austro-sardi però ricevono rinforzi e non solo iniziano a spostarne sempre iniziano a spostare truppe nel settore che ora è minacciato avviene il primo assalto che si svolge esattamente come è venuto contro la testa dell'assietta e contro le difese dell'assietta negli altri punti del campo e viene respinto vedete qui il campo è molto più aperto rispetto agli altri settori del campo di battaglia stesso e a maggior ragione la potenza di fuoco dei difensori viene enfatizzata ancora di più non possono spostarsi i francesi più sulla destra perché l'area è completamente molto scarpata ed è impossibile muoversi oltre che essere presidiata e quindi decidono di rimanere totalmente sulla sinistra alle ore 20 avviene il fissaggio francese contro la testa dell'assietta i francesi tentano l'ultimo assalto e quindi cosa fanno devono bloccare eventuali rinforzi per i montesi sulla sinistra mentre sulla destra avviene l'assalto e come lo fissano? facendo appunto un finto attacco in quel momento lì c'è questo signore che il colonnello Josef Draskovic che è del reggimento Forga c'è l'Austria che dice bene vi aiuto io dal momento che i granatieri devono essere sostituiti perché ormai la compagnia è totalmente esausta non riescono più a combattere hanno esaurito le munizioni e i fucili non funzionano più gli austriaci li sostituiscono e rimangono però chi? gli uomini del primo battaglione del reggimento guardie esclusi i granatieri che ormai come compagnia non hanno più il combat power necessario il comandante Novarena di San Sebastiano vede questo attacco capisce bene che se lui in quel momento gira la schiena e il professore Bognardi ve l'ha raccontato nella puntata precedente cosa vuol dire girare la schiena in una situazione di combattimento significa diventare dei bersagli per chi sta dando l'attacco decide che è meglio mantenere la posizione e per tre volte gli viene ordinato di abbandonare la posizione riceve anche un ordine scritto ordine scritto che viene disatteso lui decide no io rimango qua e di qui non mi muovo certo non ha letto esattamente in maniera corretta la situazione tattica ma ha deciso di mantenere la posizione e assolutamente appunto non muove i suoi uomini l'attacco viene respinto ma tra l'altro l'attacco francese non aveva l'obiettivo di superare le difese aveva l'obiettivo di fissare quelle forze dopo quando scrivono le relazioni i suoi comandanti se ne rendono conto lo premieranno gli daranno la commenda diranno il titolo di cavaliere dell'ordine mauriziano ricche pensioni promosso al fine di essere sostituito quest'uomo era maggiore con funzioni di tenente colonnello si aspettava per l'assoluzione di comando il comando del reggimento guardia chi era in quel momento il reggimento più importante di tutto l'esercito sua maestà immagino già cosa gli aveva detto ciccio stai sereno ti darò il comando sì sì il comando del reggimento glielo danno ma lo mandano a comandare un reggimento provinciale cioè un reggimento di serie B e il novarino di San Sebastiano a quel punto rassegnerà le dimissioni e se ne tornerà nella sua nel suo palazzo a San Sebastiano Po appunto nelle colline piemontesi e lì vivrà sino appunto alla sua morte il busto che vedete fotografato era l'originale conservato nella villa oggi disperso rubato una coppia fortunatamente è conservata al museo dei granatieri di Roma dove può essere ancora oggi osservato all'ora e venti avviene il secondo assalto francese del Grand Seren assalto che viene respinto nuovamente e alle 23 i francesi definitivamente rompono il contatto e si ritirano è una mattanza chi vi dice che queste battaglie del Settecento sono poco sanguinose non vi dice il vero allora i difensori giocando in difesa hanno avuto effettivamente poche perdite allora il numerico è quello effettivo e come ho detto grazie alla documentazione che abbiamo all'archivista di Torino possiamo dare i numeri precisi alla singola unità perdono complessivamente 208 uomini di cui i proprio morti sul campo di battaglia sono 72 come vedete che è una percentuale molto bassa per quello che guarda i francesi invece la situazione è drammatica complessivamente abbiamo 1174 caduti 3929 feriti per un totale complessivo di 5103 perdite cioè il 32% della forza impegnata sul campo tenete conto che oggi per quelli che sono per quelli che riguardano gli standard della Nato un'unità di combattimento che supera il 15% di perdite non viene più giudicata in grado di proseguire lo scontro viene sostituita dalla prima linea quindi immaginate queste truppe francesi che razza di perdite hanno dovuto subire e ciò nonostante al termine della giornata erano ancora una forza di combattimento ancora in grado di poter tenere il campo perché non si sono ritirati con una fuga ma hanno organizzato una ritirata molto bene organizzata sì Deustosardi hanno vinto e di solito gli storici riescono subito a dirvi chi ha vinto la battaglia in base a chi è rimasto padrone del campo di battaglia ecco dal punto di vista dell'analisi storica oggi secondo me questo tipo di appoggio non è più funzionale perché ci sono battaglie al termine della quale uno dei due contendenti sì rimane padrone del campo di battaglia però non è detto che sia quello che alla fine è risultato veramente il vincitore e quindi io questa battaglia voglio rileggere attraverso le combat function che cosa sono le combat function sono le funzioni operative cioè sono quelle funzioni che permettono a un comandante in capo ah questo fa parte della dottrina nato attuale permettono al comandante in capo di valutare com'è la situazione sul campo di battaglia e capire se la situazione è a suo vantaggio oppure no e quali sono queste funzioni operative appena di tutto il comando allora abbiamo visto un comando piemontese rigido statico poco fantasioso però alla fine efficace per quello che erano le missioni la missione che il vertice politico gli ha dato devi tenere quella posizione evita di cacciarti nei guai e combatti solo se ti aggrediscono quella francese invece devo dire che anche se la battaglia si è conclusa per loro in un macello abbastanza grave comunque hanno provato a investire il forte di exil sono riusciti a arrivare sino alla linea di combattimento il problema è la loro pochezza tattica prima ancora che la loro mancanza di capacità di comando la manovra staticissimi gli austrosardi estremamente manovrieri i francesi sostegno dal punto di vista logistico i piemontesi hanno organizzato molto bene la loro rete logistica e se ancora oggi andate a camminare su quelle montagne vi rendete conto che la rete stradale oggi quella che vedete è della fine dell'800 ma quella del 700 è ancora perfettamente riconoscibile nella sentieristica tra l'altro tutto attrezzato dal CAI vi rendete conto della rete di supporto che era stata realizzata per poter supportare in quota quei soldati viceversa anche i francesi riescono a portare 25.000 uomini oltre le Alpi e consentire loro di ingaggiare un combattimento ad alta intensità in una situazione di medio alta montagna l'intelligence chi ha fallito e chi ha vinto allora i piemontesi sino all'ultimo hanno brancolato nel buio e hanno rischiato veramente grosso spostando a sud le loro riserve è mancato un soffio solo all'ultimo si sono resi conto dell'errore che avevano fatto quello francese sono stati molto abili a creare quell'inganno nel costringere i piemontesi a spostare le riserve a sud ma nel momento decisivo informano al comandante che ingenti riserve stanno arrivando sul campo di battaglia e quindi è un fallimento totale per l'intelligence francese perché hanno costretto il comandante ad attaccare in una situazione svantaggiosa per lui i cannoni non erano ancora sul campo di battaglia in quel momento la protezione cioè come riesco a proteggere i miei uomini in una zona di operazioni beh devo dire che i piemontesi data la loro dottrina che prevede un combattimento statico erano diventati le migliori truppe d'Europa nel realizzare campi pincerati e difenderli non solo nelle fortificazioni campali ma anche poi in quelle permanenti tenete conto che finita questa guerra è finita poi la guerra dei sette anni Federico di Prussia chiama ingegneri Sabaudi per realizzare le sue nuove fortezze e appunto apprendere dagli ufficiali del Regno di Sardegna come operare nel meglio come realizzare e difendere al meglio questi tipi di fortificazione e infine il fuoco decisamente abbiamo visto un approccio suicida da parte francese questi attacchi alla Follard alla baionetta senza colpo in canna in modo tale da approcciare velocemente le linee difensive avversarie ma a quel punto rimango senza un mezzo di distruzione per abbattere la volontà dell'avversario di ridifendere o semplicemente per distruggerlo da altro lato gli austrosadi che hanno enfatizzato al meglio la loro potenza di fuoco per appunto distruggere l'avversario questa slide The Italian Way of War questo signore immagino lo conosciate Paolo Cacciadominioni eroe di El Alamein colui che ha costruito il Sacrario vi fa una domanda qual è la più grande vittoria che ha tenuto in battaglia dall'esercito italiano su forza qual è la più grande vittoria che abbiamo perché noi siamo bravissimi quando faccio questa domanda ogni tanto mi alzano la mano caporetto ma attenzione vi ho detto vittoria oppure l'altra che fanno è El Alamein anche lì signori non abbiamo vinto l'end state di El Alamein non è l'alloro della vittoria ma è una solenne amazzata qual è la vittoria più grande vittorio veneto il piave allora già due sono molti devo dire che l'auditorio è di qualità elevatissima e infatti a lui ne vengono almeno quattro la prima è il sostizio sostizio la seconda avete mai sentito parlare di questa? allora Bligny mentre avviene il sostizio un corpo ad armati italiano viene mandato a partecipare a quella che gli storici chiamano la Kaiserschlacht e qui gli italiani non combattono contro dei disperati austriaci ma combattono contro le armate imperiali tedesche e i francesi le mandano senza artiglieria divisionale a fermare la testa delle truppe tedesche che appunto stanno spingendo verso sud verso Parigi allora se non ricordo male parliamo di 30.000 italiani di questi 30.000 al termine della giornata almeno un terzo è morto o ferito tant'è che voi a Bligny avete un cimitero di guerra italiano bene i tedeschi non sono passati perché gli italiani dopo Caporetto imparano a difendersi e Bligny è una delle vittorie più grandi che abbiamo nel nostro palmarès della storia militare e poi ne abbiamo un'altra naturalmente Vittorio Veneto grazie a questa battaglia noi chiudiamo in maniera vittoriosa la prima guerra mondiale sostizio battaglia offensiva o difensiva Bligny difensiva ve lo dico io Vittorio Veneto abbiamo la nostra forse la nostra unica grande vittoria offensiva e una che è poco conosciuta ma devo dire che grazie la mia insistenza alla fine è stata messa anche nel calendario dell'esercito lo scorso anno Gazala mai sentite nominare? maggio giugno 1942 gli inglesi vengono sconfitti a Gazala e Tobruk l'obiettivo di tutta la manovra di Rommel per un anno e mezzo finalmente cade e dopo Gazala riusciamo ad arrivare sino ai Lallamein e tre su quattro sono state vinte combattendo azioni difensive quindi attenzione ogni forza armata ha al suo interno un DNA un preciso modo di operare sul campo negli anni 80 quando furono sviluppate all'interno della Nato le nuove dottoline di combattimento note poi come Air Land Battle 2000 e tutta la Nato avrebbe dovuto assimilare quel nuovo modo di combattere furono messi al lavoro tutta una serie di equipi di storici per capire ogni singola nazione della Nato come combatteva e sono nati dei filoni di ricerca che sono stati chiamati the Any Country Way of War cioè ogni paese aveva un preciso modo di fare la guerra e infatti abbiamo volumi che si titolano The German Way of War The British Way of War c'è anche un Russian Way of War adesso anche aggiornato ma anche l'Italian Way of War e l'Italian Way of War è questa roba qua signori noi siamo i figli della Sietta l'esercito italiano è sempre stato pensato anzi anche il regio esercito italiano è sempre stato pensato come una realtà estremamente legata alla difensiva proteggere i confini nazionali assorbire l'urto di una offensiva avversaria e successivamente ed eventualmente andare alla controoffensiva pensate solo perché nasce il corpo degli alpini per assorbire un'eventuale offensiva avversaria e questo modo di agire dello sviluppare le dottrine sviluppare le dottrine tattiche operative dell'esercito italiano sono di fatto esattamente ancora legate a quel mondo che nasce con la Sietta nel 1747 Caccia Dominioni giovane sottottenente anzi ancora cadetto arriva a Torino nel 1915 volontario di guerra lui tra l'altro è cresciuto in una famiglia di origine lombarda ad Alessandra d'Egitto viene spedito a Torino l'accademia si divideva in due franteria e cavalleria a Modena e artiglieria a Genio a Torino va a visitare Palazzo Reale si trova davanti nel quadro dell'Assietta e capisce noi siamo ancora quella roba lì e quindi noi come esercito italiano e come l'esercito sardo all'epoca enorme difficoltà nel sviluppare operazioni offensive pensiamo solo alla drammatica guerra di rapido corso bravissimi campioni vittoriosi quando si tratta di giocare in difesa un libro un film una canzone naturalmente sul libro non posso che sponsorizzare l'ultima mia opera appunto La battaglia dell'Assietta e la campagna militare alpina nel 1657 all'interno del quale ho riversato anche quelle che sono state tutte le mie esperienze di ufficiale docente della scuola d'applicazione d'arma di Torino e sul come venire panificata condotto un'azione gestita e dopo di che molte cose tutta la parte cartografica di fatto che vi ho presentato questa sera la trovate all'interno di questo volume quindi ve lo consiglio un film direi molto simpatico che vi aiuta anche a capire un po' il mondo della guerra del XVIII secolo in maniera molto più efficace rispetto a mio modo di vedere a Stanley Kubrick è L'ultimo dei Moicani spettacolari le parti legate alla sedia di Fort William Henry e infine direi che i Queen con David Bauer e Under Pressure sono stati la nostra colonna sonora in questa serata e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona sera grazie